Conoscerò con felicità mio padre perché ogni uomo merita il perdono. L'unica cosa per cui non l'ho ancora fatto è perché cambierà quell'incontro qualcosa nel mio subconscio e quindi cambierà anche la mia scrittura e a volte tutelo la mia scrittura. Mi manda un po' in quei momenti molto conscious e io non voglio affrontarlo così. Per ogni uomo non c'è la pretesa che sappia anche essere genitore. L'affronterò senza rancore.